Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video e benvenuti al mio canale questo qua è un video brevissimo ma volevo fare un video di cui vi volevo far vedere le cose che so fare di danza allora vi faccio vedere subito allora per la prima cosa i giri allora faccio gli scenè, i picchè e il giro normale ok iniziamo con i scenè allora adesso vi faccio un po' male perchè sono scarsa aspettate mi metto i ciabatti così che ci riesco di più si ci riesco di più poi è a sinistra poi i picchè il giocattolo di Zoe, la mia moglietta il mio canale i picchè vabbè mio padre scusate ma è la mia madre che sta venendo picchè sinistra e giro al normale niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto un video brevissimo ma perchè tra poco devo uscire cioè non è che devo uscire però devo mangiare e quindi niente niente ragazzi iscrivetevi lasciate like e spero che vi sia piaciuto come faccio il picchè scienè e giro ciao 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 Grazie a tutti.